in natura. E l'altra antologia che mi viene in mente, sentendo il tuo ragionamento, è che tutte queste leadership hanno avuto il loro massimo alle elezioni europee, no? Esattamente. Perché quello che tu, se non ricordo male, anche Renzi ha avuto il suo boom. Assolutamente. Salvini. 40%. Salvini stesso. Salvini 34. E tutte hanno avuto il loro A. Perché alle elezioni europee l'elettore fa questo voto, come dire, identitario? Perché se è vero che storicamente abbiamo avuto questi trend. Ecco, grazie alla regia che ce l'ha riproposti. Questo è veramente... Non era pronto, quindi grande applauso alla regia per averli... Allora, Partito Democratico, europei... Quello è Renzi. Questo è Renzi, il 40%. Poi abbiamo sempre... 5 stelle nell'anno dopo. 5 stelle, esatto. Il 21, il 21 e 1. Insomma, è un trend che all'europeo... Poi Salvini nel 19. Salvini all'europeo del 19 con il 28 e 1. Insomma, questo dimostra che le elezioni europee sono sempre state un grande bolla. Come dobbiamo chiamarla? Sì. Io credo che una ragione ci sia. Nel senso che alle europee conta davvero soltanto, posso definirla così, la propaganda. Un po' perché l'elettore medio italiano percepisce l'Europa come una cosa lontana quando va bene, come una cosa cattiva quando va male. E quindi quello che prevale, anche al di là delle singole misure che chi governa o chi sta all'opposizione contestandole ha introdotto, è davvero, in questo senso anche Meloni a Pescara lo ha confermato, un referendum sui leader. Cioè, vi fidate di me, nello specifico sul governo, ma quasi a prescindere dall'azione di governo, no? Perché mentre alle politiche lo devi giudicare sulla base di quello che ha fatto per te, all'europeo lo fai più sull'onda dell'opinione o dell'emozione. In questo caso più sull'emozione che non sull'opinione. Ti faccio sentire...